Si parte da Chatelle, si arriva a Morillon, che tappa ti aspetti o vorresti che fosse? Io spero che di sicuro è una tappa difficile, spero di riuscire ad anticipare il gruppo dei migliori andando in fuga e raccogliere un po' di punti per il GPM e magari resistere anche al ritorno del gruppo. Quindi la speranza è arrivare ad Aosta, a Pua? È l'obiettivo primario.